Max Pay è finalmente in presenza per la prima volta a Bologna, la diciannovesima edizione, è una manifestazione importante che ha oggi 2.000 aziende qua in esposizione come espositori. Ci attendiamo oltre 40.000 visitatori che sono quelli che si sono preaccreditati in questi giorni per visitarlo. Noi abbiamo messo insieme tutte le nostre migliori espressioni tecnologiche per giustificare quelle che sono le innovazioni all'interno dell'industria manifatturiera. I temi importanti sono ovviamente la formazione, la tecnologia e la sostenibilità. La formazione che oggi anche dai dati dell'osservatorio che abbiamo appena presentato giustificano quelli che sono gli incrementi di fatturato, quindi più competenze uguale più fatturato e l'innovazione tecnologica che è stata portata alle macchine durante il piano calenda, quindi industria 4.0, in questi ultimi 19-20 mesi ha avuto anche un upgrade per quello che riguarda l'utilizzo dei dati e la messa a terra nel sistema produttivo dei miglioramenti che l'innovazione ha portato. Grazie.